Sparatoria in un liceo americano a Seattle, esattamente alla Marsburg High School. Almeno due studenti sono stati colpiti, ma le loro condizioni al momento non sono note. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore, non è noto ancora se uno studente, ha aperto il fuoco all'interno della caffetteria della scuola. Ma non è ancora noto se l'assalitore sia ancora dentro il liceo. Tra l'altro, proprio pochi minuti fa, un giornale locale ha citato alcune fonti secondo cui colui che ha sparato all'interno della struttura sarebbe stato ucciso. Il liceo si trova a nord di Seattle. Per ulteriori informazioni, appuntamento nelle prossime edizioni.